È un tentativo di dare un supporto a chi deve entrare nel mondo del lavoro in tutte le fasce e in tutte le situazioni. Questo è anche un forte sostegno alle nostre imprese perché è un'opportunità reciproca che va fatta. Questa è una fase sicuramente molto particolare, però gli strumenti che stiamo mettendo in campo sono strumenti che hanno un peso molto specifico, molto rilevante e crediamo possano produrre gli effetti sperati. Giovani, inoccupati, ma anche coloro che purtroppo in un'età avanzata sono fuori dal mercato del lavoro. Sono le tre emergenze su cui dobbiamo intervenire in maniera particolare e poi ci sono delle specificità. E queste tre emergenze credo che toccano la nostra regione ma come toccano gran parte del sistema paese in questo momento. Il sistema paese intendo l'Italia. Su queste emergenze ci siamo concentrati e per questo credo che i 350 milioni che sono previsti in questo piano hanno una prospettiva di azione e di risultati che noi riteniamo possano produrre effetti pratici nell'immediatezza.